Care studentesse, cari studenti, l'anno accademico 2020-2021 è stato difficile. La pandemia ci ha costretti a svolgere una parte consistente delle lezioni a distanza e ha reso fragile e saltuaria quella consuetudine di incontri seminariali e di discussioni in presenza che è la cifra più caratteristica del nostro modo di intendere l'università. Il dipartimento di filologia e critica delle letterature antiche e moderne, DIFCLAM, è un dipartimento di eccellenza, non lo dico io che lo dirigo, lo attesta il ministero dell'università e della ricerca, perciò è uno dei posti migliori in Italia e non solo in Italia per studiare lettere. Questa eccellenza la vogliamo dimostrare non soltanto nella ricerca. La ricerca ci vede impegnati in numerose e prestigiose collaborazioni internazionali, in importanti imprese editoriali, in una intensa attività di convegni e seminari, ma vogliamo dimostrare questa eccellenza anche nella didattica e anche nell'organizzazione della vita quotidiana universitaria. Siena è una delle città più belle al mondo ed è una città campus che in condizioni normali offre un contesto veramente ideale per studiare, per coltivare i rapporti umani, per fare esperienze culturali ricche di stimoli. Anche durante la pandemia siamo riusciti a mantenere in presenza un certo numero di corsi, di seminari e di attività laboratoriali. Più di molte altre università abbiamo fatto grandi sforzi economici e organizzativi per restare aperti, per non lasciare le nostre studentesse e i nostri studenti chiusi in una stanza, soli dietro uno schermo. E quando davvero non era possibile venire in dipartimento abbiamo organizzato seminari online che hanno avuto un grande seguito, un successo molto notevole a livello locale, nazionale e in alcuni casi anche internazionale. In particolare il ciclo di extrema razio, potete vedere le registrazioni sul nostro canale YouTube, al link seguidifclam che trovate sul nostro sito di dipartimento. Questo ciclo di extrema razio ha coinvolto alcuni dei più importanti scrittori e intellettuali italiani attivi oggi. Sappiamo che le nostre studentesse e i nostri studenti hanno apprezzato questi sforzi e sappiamo che tutte e tutti desiderano al più presto poter tornare a vivere l'unica università vera, piena, davvero formativa, quella in presenza, fatta di scambi culturali quotidiani, di letture nella nostra biblioteca di Fiera Vecchia e nel suo meraviglioso giardino, di condivisione intellettuale fra docenti e studenti. Per questo ci stiamo preparando per il nuovo anno accademico. Le premesse sono migliori, la campagna vaccinale procede con un buon ritmo e a fine settembre, all'inizio delle lezioni, speriamo di poter essere tutti o quasi tutti, docenti e studenti, protetti contro il Covid-19. Sarà tuttavia ancora necessaria la massima prudenza e probabilmente le normative sanitarie vigenti imporranno ancora il distanziamento che dimezza la capienza delle aule. Perciò stiamo cercando tutte le soluzioni logistiche utili a garantire un regolare inizio dell'anno accademico. L'impegno assunto dal magnifico rettore è molto preciso, vogliamo garantire a tutte le studentesse, a tutti gli studenti, un posto in aula, in sicurezza. Al tempo stesso però sappiamo che la pandemia ha fatto molti danni sia dal punto di vista sanitario sia dal punto di vista economico e il prossimo autunno la situazione non sarà ancora completamente tornata alla normalità. Perciò a chi non potrà essere a Siena fin da settembre garantiremo anche la possibilità di seguire i corsi a distanza nel primo semestre in modalità sincrona o asincrona a seconda della specificità dei vari insegnamenti. e se sarà necessario estenderemo questa possibilità anche al secondo semestre. Abbiamo sempre fatto e vogliamo continuare a fare tutto il possibile per andare incontro alle esigenze delle studentesse e degli studenti, però vogliamo anche ribadire in modo molto chiaro che non siamo e non diventeremo mai un'università telematica, che il sapere in generale e quello umanistico in particolare è una costruzione dialogica che presuppone il contatto umano. Perciò invitiamo caldamente a venire a Siena tutti coloro che ne hanno la possibilità. Il nostro europeo, che pure non è molto ricco, ha investito tantissimo sul diritto allo studio e in collaborazione con la regione toscana mette a disposizione una serie di strumenti per aiutare chi ne ha bisogno. Esenzione dalle tasse, borse di studio, fondo di solidarietà. Perciò speriamo veramente di avere nel prossimo anno accademico le aule piene e solo pochi studenti collegati da remoto. Ora mi rivolgo in particolare alle future matricole, a quanti hanno appena superato l'esame di maturità e si apprestano a fare una delle scelte più importanti della loro vita, quella del percorso universitario. Se la letteratura è la vostra passione, non abbiate paura di fare quello che vi piace. Non è vero che lettere è una laurea con pochi sbocchi lavorativi. I nostri ex studenti ottengono risultati lusinghieri, molto lusinghieri, anche dal punto di vista dell'impiego, nella ricerca, in Italia e anche all'estero, nell'insegnamento e nei prossimi anni ci saranno molti posti nella scuola italiana e anche nel settore privato. Per trovare tanti buoni motivi per iscrivervi da noi, per capire che fare lettere a Siena è davvero una scelta vincente, vi invito a seguire i nostri canali social e a guardare i nostri video di orientamento. Qui mi limito a dire che in pochissime altre università troverete insieme tre cose fondamentali. Un rapporto ideale tra docenti e studenti, da noi le classi sono piccole o comunque non eccessivamente numerose, conosciamo personalmente i nostri studenti. Un grandissimo numero di opportunità di studio all'estero, Borse, Rasmus, Elan e anche altre. E poi, quel che più conta nella qualità della nostra didattica, un equilibrio fra filologia e critica, come dice il nome del nostro dipartimento, tra il rigore dello studio storico, linguistico, testuale e il fascino delle metodologie più innovative, l'antropologia del mondo antico, la teoria della letteratura, le letterature comparate. Per esempio, la letteratura italiana è insegnata sempre in modo approfondito, ma anche in un quadro comparatistico, sovranazionale. Se invece la vostra passione sono le lingue, e in particolare le lingue nel loro aspetto comunicativo di mediazione culturale, vi invito a prendere in considerazione il corso di laurea in lingue per la comunicazione interculturale di impresa, offerto dall'Ateneo di Siena nella sede di Arezzo. Dal prossimo anno, infatti, il nostro dipartimento gestirà anche questo importante corso di laurea, che ha ottenuto negli scorsi anni e continua a ottenere successi straordinari, con una forte crescita del numero delle iscrizioni. E anche Arezzo è una città bellissima, come tutta la Toscana. Anche il campus del Pionta, con la sua biblioteca e la sua sede del centro linguistico di Ateneo, è un luogo ideale per studiare e per incontrarsi. Alle colleghe e ai colleghi di Arezzo, alle studentesse e agli studenti di lingue, a quelli già iscritti, così come alle future matricole, vorrei dare un benvenuto particolarmente caloroso. Tutti insieme ci impegneremo per migliorare ulteriormente sia lettere a Siena, sia lingue a Arezzo. Ma questo messaggio è già troppo lungo, ci sarebbero tante altre cose da dire, ma concludo qui e per darvi un esempio di come intendiamo a Siena e Arezzo il rapporto tra docenti e studenti, vi dico che potete scrivere a me e a tutte le mie colleghe, a tutti i miei colleghi, anche durante l'estate vi risponderemo, cercheremo di risolvere i vostri dubbi e di darvi delle indicazioni utili per orientarvi nella scelta del corso di laurea più adatto alle vostre esigenze. E poi vi aspetto a Siena in settembre in presenza e auguro a tutte e a tutti un'estate serena.